Siamo a Bergamo, nella chiesa di San Bernardino in via Pignolo, uno dei borghi storici della città fuori dalle mura e uno di quei luoghi dove si sono concentrati i palazzi storici, i palazzi delle famiglie più antiche della città che qui avevano cominciato a risiedere tra la fine del 4 e l'inizio del 500. Lungo la via si trova questa piccola chiesa di edificazione quattrocentesca, ancora gotica, che poi è stata pesantemente rimaneggiata nell'Ottocento. Infatti oggi entrando vediamo sostanzialmente una chiesa di aspetto ottocentesco negli intonaci, nelle decorazioni, negli altari. Ma questa chiesa conserva una serie di opere molto significative invece del primo 500, cioè del momento in cui si cominciò probabilmente ad ufficiare regolarmente in questo luogo. E in particolare sull'altar maggiore c'è una delle opere più famose in assoluto di Lorenzo Lotto, firmata e datata 1521. Il 1521 è l'anno magico di Lotto perché in quell'anno lui riesce a toccare probabilmente il vertice della sua fase, almeno della attività giovanile. Era a Bergamo da 7-8 anni, dal 1513, e probabilmente era riuscito ad affermarsi in modo significativo in città. Gli viene commissionata questa pala per una chiesa di piccole proporzioni, tutto sommato, nella quale lui invece realizza una pala gigantesca, una pala impressionante come scenografia e come ampiezza compositiva. Vediamo al centro una Madonna con il bambino attorniata da Santi e in alto un volo di angeli in prospettiva. I Santi che vediamo sono nell'ordine da sinistra verso destra, San Giuseppe con un grosso bastone, appoggiato a questo grosso bastone. Poi c'è un San Bernardino che è il titolare della chiesa, quindi ovviamente in una posizione di riguardo. Poi c'è un San Giovanni Battista e alla fine Sant'Antonio Abate all'estrema destra. Questi due Santi, due Santi tra i più venerati, quindi più frequentemente rappresentati sulle palle d'altare. Tutta la scenografia è assolutamente fantastica, è assolutamente fantasiosa nella impostazione. Non ha precedenti sostanzialmente, non si riesce qui a individuare qualche riferimento al quale Lotto possa essersi ispirato. È un'immagine completamente inventata, completamente nuova, per cui si può anche immaginare che quando Lotto la presentò ai suoi committenti, al pubblico di allora, agli abitanti di Via Pignolo, agli aristocratici che stavano nei palazzi di Via Pignolo abbia suscitato non poca meraviglia. Anzi, è plausibile immaginare che più di uno si sia quasi scandalizzato di fronte a un'immagine di questo tipo, così poco tradizionale. Bisogna ricordarsi che fino a pochi anni prima ancora si facevano dei politici con le cornici dorate, con gli scomparti, con delle architetture intagliate, imponenti e con delle figure di Santi incasellati nelle loro nicchie in modo molto regolare e molto schematico, diciamo, rispetto a una soluzione come questa. Quello che impressiona forse più di ogni altra cosa qui è la sensazione di spazio, di aria, di luce che da un'immagine come questa ci arriva immediatamente. La vediamo oltretutto oggi dopo un recente restauro e con un'illuminazione molto efficace per cui si riesce a coglierne tutti gli aspetti. Ma effettivamente questa immagine ha una forza potentissima di comunicazione rispetto a chi guarda e appunto scardina tutti i criteri precedenti. Lotto ha circa 40 anni a questo punto, quindi è un po' diciamo al vertice della sua fantasia creativa e riesce in questo caso a riassumere in un modo spettacolare e appunto unico, originalissimo, un po' tutti quelli che sono gli elementi della sua formazione perché sappiamo che Lotto si forma a Venezia probabilmente o necessariamente in qualche modo nell'ambito di Giovanni Bellini che era il grande patriarca della pittura veneziana, era colui che a Venezia assolutamente dominava ancora il campo, ancora fino a pochi anni prima rispetto a questa data. Giovanni Bellini muore nel 1516 e fino a quel momento viene comunque considerato il più grande. A Venezia poi c'era Giorgione e altro grande protagonista che probabilmente Lotto ha fatto in tempo a conoscere prima di partire perché poi Lotto si sposta piuttosto presto da Venezia e già nel 1502-1503 lo troviamo a Treviso. Ma appunto questa formazione veneziana nell'ambito di Giovanni Bellini dà a Lotto questo gusto per la luminosità e per la dolcezza della luce. Questi sono gli elementi probabilmente più caratteristici, cioè l'idea di una luce diffusa e di una luce dolce che accarezza i personaggi, che riesce a dare questo senso di una percezione umana delle figure che sono rappresentate. E però non c'è solo questo nella formazione di Lotto, perché l'altra tappa che probabilmente è stata decisiva, anche se ne sappiamo molto poco, è il suo viaggio a Roma. Quando lui intorno al 1509 viene chiamato a lavorare in quello che era uno dei cantieri più moderni e più richiesti di quel momento, cioè nelle stanze vaticane. E purtroppo non sappiamo che cosa Lotto abbia realizzato lì, perché inizia, si può immaginare, una campagna di affreschi, forse nella stanza che oggi chiamiamo la stanza di Eliodoro, ma di ciò che lui aveva fatto non rimane nulla, perché subito dopo arriva Raffaello e il cantiere di Raffaello, la grande bottega raffaellesca, e poi la novità straordinaria di questo genio incredibile fa sì che tutto ciò che era stato fatto prima in quelle stanze venga demolito e sostituito dai nuovi affreschi di Raffaello. Qualche cosa però di questa esperienza romana a Lotto rimane, rimane probabilmente in modo problematico, anche perché Lotto è comunque un personaggio difficile, probabilmente introverso, dal carattere complicato, e gli rimane probabilmente come una sconfitta più che come uno spunto di attività. Però sicuramente avere conosciuto Raffaello gli resta dentro, insomma, in qualche modo, e lo vediamo sicuramente in questa maggiore articolazione delle figure, nel movimento, il bambino rispetto alla Madonna, i Santi rispetto all'altare, gli angeli che si scatenano in questo volo un po' folle in alto, e anche l'angelo in primo piano che sta inginocchiato davanti ai gradini di questo trono in marmo. Questa idea del movimento in Giovanni Bellini non c'era, o c'era molto meno. Bellini era un pittore di grandissima qualità, di grandissima capacità pittorica, appunto, di luce, di dolcezza della luce, ma era un pittore di figure tendenzialmente ferme, tendenzialmente acquietate nello spazio, mentre Raffaello è un pittore di movimento. E quindi Lotto riesce, in modo assolutamente meraviglioso, a sintetizzare questi due criteri, queste due linee di formazione così contrastanti tra loro. La pittura veneta, se vogliamo dare dei criteri generali, è la pittura dell'Italia centrale. Quindi Giovanni Bellini e Raffaello, e già sono due giganti naturalmente, con i quali Lotto fa i conti da pari grado, tutto sommato. E poi c'è almeno un terzo elemento importantissimo, che qui emerge molto chiaramente, che è quello dell'interesse di Lotto per la pittura nordica. E questo è uno degli aspetti meno facili da raccontare, ma che comunque si basa probabilmente sul passaggio di Dürer a Venezia. Passaggio che non lascia per lo più delle tracce evidentissime nella pittura veneziana, ma che evidentemente deve aver colpito il giovanissimo Lotto in modo molto significativo. Dürer a Venezia la prima volta nel 1494, quando Lotto dovrebbe avere all'incirca 14 anni. E può darsi anche che questo giovane apprendista pittore abbia conosciuto il grande maestro tedesco che era stato chiamato appunto a Venezia e che farà appunto questo breve viaggio in Italia e poi tornerà in Italia nei primi anni del Cinquecento. Sicuramente Lotto si sente forse più congeniale anche a questo tipo di sensibilità che è un modo diverso di guardare alla realtà rispetto a quello della tradizione italiana, cioè si va a soffermare su degli aspetti realistici, su dei dettagli persino sgradevoli qualche volta, persino volutamente drammatici in qualche modo, per cui le fisionomie per esempio dei Santi vengono caratterizzate in modo molto forte nella loro età anziana. Quindi vediamo un San Bernardino con la bocca appena socchiusa, nella quale si vede che ha solo qualche dente invece che avere un sorriso perfetto. Oppure San Giuseppe che è curvo e visibilmente invecchiato, oppure Sant'Antonio Abate, anche lui così ingobbito e curvo sotto il peso dell'età. Tutti dettagli che sono impensabili per esempio in Giovanni Bellini o anche in Raffaello per altro verso. Quindi sono elementi che in quel momento risultavano assolutamente nuovi e mai visti nella tradizione italiana. Tutto questo trova appunto questa sintesi assolutamente sorprendente che ha probabilmente un ulteriore componente nella collocazione ormai a questo punto lombarda di lotto, nella collocazione geografica, che ha fatto sì che questo pittore veneziano risiedesse ormai da un po' di tempo a Bergamo e quindi probabilmente, qui non sappiamo bene quanto si fosse spostato, ma probabilmente fosse stato almeno a Brescia per esempio, fosse stato forse a Milano e comunque avesse potuto in qualche modo conoscere la tradizione lombarda della pittura da Foppa a Leonardo, per citare due protagonisti assoluti, che avevano fatto sì che nella pittura lombarda ci fosse questo gusto per la verità delle cose, per l'attenzione ai particolari, alla descrizione naturalistica, che è sicuramente la caratteristica appunto della pittura in Lombardia, lo è già nel 400 e lo sarà poi nei secoli successivi fino a Caravaggio, per citare l'esempio più famoso. Visti tutti questi elementi diciamo di contorno, in qualche modo di formazione, di lotto, poi l'elemento fondamentale alla fine comunque è la sua assoluta originalità che ne fa un pittore effettivamente per certi versi isolato, senza allievi, senza imitatori che non siano molto molto lontani da lui insomma e questa unicità di lotto è nella stravaganza. Lotto è un pittore matto diremmo oggi, è un pittore assolutamente fuori dalle righe predisposte e per questo appunto si può immaginare che i suoi committenti siano rimasti almeno inizialmente assolutamente stupiti e forse anche contrariati da questa strana pala perché su questo contesto culturale che si è provato a raccontare l'otto immagina delle figure che poi hanno delle stranezze davvero inventate da lui assolutamente. Lotto appunto introduce nel dipinto degli elementi suoi di fantasia che sono assolutamente sorprendenti per esempio c'è questo angelo in primo piano che ci guarda con questi occhi pungenti e sta scrivendo chissà che cosa sul libro che ha davanti attorno ci sono delle rose con i petali sparsi sugli scalini del trono e si vedono tantissimi dettagli realistici che non ci aspetteremmo in un dipinto di questo tipo da certe forme dei panneggi agli accessori che i santi hanno dai sandali al bastone agli oggetti che tengono in mano c'è tutta un'idea di in qualche modo di trasgressione di quelli che sono gli schemi più risaputi della pala d'altare in questi anni ricordiamoci che siamo negli anni del pieno rinascimento siamo negli anni di Raffaello, di Michelangelo Leonardo era scomparso da poco insomma quindi sono veramente gli anni del trionfo della pittura rinascimentale italiana e l'otto introduce questi elementi contrastanti in qualche modo anche solo per esempio il drappo verde che scende in modo asimmetrico e copre una parte del basamento marmoreo del trono introduce questo fattore di asimmetria che è del tutto contrastante rispetto appunto alla tradizione di equilibrio e di ordine rinascimentale bisogna anche ricordarsi che il 1521 è una data importante anche perché soltanto un anno prima era morto a Roma Raffaello quindi è forse un momento in cui si cominciano a mettere in discussione le regole raffaellesche diciamo il trionfo del modo di Raffaello di dipingere e l'otto può anche darsi interpretando che si senta a questo punto più libero di cominciare a introdurre questi elementi di asimmetria e di trasgressione appunto che sono poi alla base di quel fenomeno che da qui prenderà sempre più spazio che noi chiamiamo il manierismo o la maniera moderna cioè la progressiva trasgressione appunto delle regole rinascimentali tra le trasgressioni per esempio ci sono sicuramente quegli angeli in volo quei quattro angeli che sostengono in modo così fantastico il grande drappo verde che fa da sfondo al gruppo principale e quegli angeli con questi scorci pazzeschi questi angeli seminudi che sono solo un pochino coperti da questi drappi di panneggio ma che sicuramente appunto avranno suscitato non poche proteste per questi scorci così strani così imprevedibili e per quest'area in fondo più da putti del mondo classico che non da angeli sobri e paradisiaci come si era più abituati a vederli un altro aspetto che forse non è facilissimo da accogliere ma è il rapporto tra il gruppo dei personaggi e il paesaggio che è studiatissimo in realtà c'è un'idea molto curata e molto pensata di questo legame e di questa distanza perché noi vediamo che i personaggi stanno davanti a una sorta di muro di muro grigio che in qualche modo li spinge verso il primo piano e dietro a questo muro grigio dietro al trono di Maria vediamo che si apre un paesaggio amplissimo è una struttura che in realtà non ha un confronto con un'architettura esistente plausibile nel senso che si tratta di una sorta di terrazzo o di loggia aperta dietro la quale appunto si vede una distesa di paesaggio ma è una struttura inventata chiaramente che però serve a staccare in modo molto preciso il gruppo dei personaggi appunto da questa ampiezza di spazio luminoso che si apre dietro e il paesaggio stesso è poi un paesaggio fantastico chiaramente non è un paesaggio ispirato a un luogo preciso anche se ci sono degli elementi molto particolari soprattutto vediamo sulla estrema destra si vede un bosco in lontananza con un villaggio che brucia una scena di incendio estremamente realistica e anche questa non è diciamo tradizionale nella pittura italiana è qualche cosa che è più facile trovare nella pittura nordica e probabilmente un riferimento al fatto che Sant'Antonio Abate era il protettore dal fuoco di Sant'Antonio ma anche dagli incendi quindi c'è questo riferimento non così immediato non così diretto ma proprio la figura di Sant'Antonio salendo così vicino a vedere il quadro come normalmente non si può fare siamo in alto dietro l'altare a pochi centimetri dalla tela si vede bene anche una cosa che fa veramente impressione cioè si vede come l'otto adotti per quasi tutti i personaggi per l'angelo inginocchiato in particolare così di spalle messo in questa posizione assolutamente anomala ma anche per gli altri personaggi adotti una scelta che noi siamo abituati a conoscere in un contesto completamente diverso cioè rappresenta in modo molto visibile i piedi dei personaggi questi piedi di cui vediamo la pianta vediamo i dettagli dei piedi ruvidi nodosi e viene in mente probabilmente subito che il pittore che poi farà di questo dettaglio uno degli elementi scandalistici della sua pittura sarà Caravaggio e tutti abbiamo letto probabilmente nel manuale di storia dell'arte che i piedi dei personaggi di Caravaggio sono uno degli elementi che più avevano colpito i suoi contemporanei colpito sfavorevolmente per lo più allora una delle suggestioni più interessanti e più importanti da approfondire è che probabilmente ci dobbiamo immaginare un giovane Michelangelo Merisi da Caravaggio appunto Caravaggio è a pochi chilometri da Bergamo poi sappiamo che lui era nato a Milano ma sicuramente il contatto con Caravaggio rimaneva insomma col paese d'origine della sua famiglia e ci possiamo immaginare appunto un giovane Michelangelo Merisi che passa per Bergamo anche se non abbiamo nessun documento che ce lo attesti e viene a vedere le pale di lotto e da lì magari fa dei disegni e si ricorda di queste soluzioni naturalistiche di queste soluzioni così prese dal vero prese dalla realtà contadina di tutti i giorni che sono proprio di lotto una caratteristica una sua specificità al di là di tutti gli influssi e gli elementi della formazione di cui si diceva all'inizio c'è un dettaglio al quale magari non si fa caso ma che serve a dire di questo realismo incredibile di Lorenzo Lotto se noi guardiamo bene San Giuseppe vediamo che ha questa giacca azzurra che sembra molto elegante anche in un certo senso molto lussuosa ma in realtà se la osserviamo meglio ci si accorge che la giacca ha la manica scucita ha la manica staccata quindi è un abito quasi più da mendicante che non da personaggio altolocato si vedono proprio i fili che si sono allungati e tengono a malapena insieme ancora i due pezzi di questo vestito che si sono